sono entrato a far parte dell'italia poker team grazie a dei buoni risultati d'inverno mese di novembre mese di dicembre infatti sono stato anche campione d'inverno ho avuto un po di flessione nel periodo aprile maggio però anche a maggio ottenuto un buon piazzamento las vegas ovviamente per un giocatore uno spettacolo perché una città dove si vive al massimo si gioca tantissimo una città piena di accessi non ci si annoia mai ed è il sogno di tutti i giocatori la cosa bella di las vegas è che quando si fanno tornei la gente non è come in italia che si altera vincono perdono ridono good luck e basta spero ovviamente di ripetermi come lo scorso anno e di cercare di far parte anche per il prossimo anno nell'italia poker team ovviamente voglio riprovare le isop perché mi incuriosisce la nuova struttura saluti a un mio carissimo amico carlo savinelli e alle persone che porto nel cuore